Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Claudio Tron. Un fraterno saluto, sorelle e fratelli. Un saluto che non è un semplice saluto umano, ma è un saluto che segna l'inizio del nostro culto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dice il salmista, io spererò sempre e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore. Ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai istruito fin dalla mia infanzia e io, fino a oggi, ho annunziato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Ci raccogliamo in preghiera. Dio nostro, anche chi non è giunto alla vecchiaia e alla canizie, può fare su alla preghiera del salmista. I nostri giorni passano. Siamo anche verso la fine di quest'anno. Ma i giorni che il tuo figlio ha vissuto su questa terra non appartengono al passato. Egli è sempre con noi. L'annuncio di Natale rischiare a tutti i nostri giorni. Il tuo spirito ha illuminato tanti uomini e donne prima di noi, permettendo loro di riconoscere in Gesù il Salvatore, hanno così potuto accoglierlo in spirito e benedirlo. Così illumina anche noi con lo stesso spirito e concedi di riconoscere in Gesù il figlio che tu hai mandato per la nostra redenzione. Amen. Egli è insoltato e cantate il Signore. Occhi a dignità del mondo in te. A noi serviti e confermo a te io gli osi il suo volo. E di Dio vero di tutti il Signore, riconosciamo la sua bontà, e gli ci guida con l'amor verso l'eterno e l'eterno e l'eterno. Canti di gioia e di festa incogniamo per tutti i doni che ci dà, l'amor eterno celebriamo, la sua costante fedeltà. Anche oggi il testo della nostra meditazione non è stato scelto da chi vi parla, ma è proposto da un giorno una parola per la predicazione di questa prima domenica dopo Natale. Il Signore parlò ad Akaz e gli disse, «Chiedi un segno al Signore, al tuo Dio, chiedilo giù nei luoghi sottoterra e nei luoghi celesti». Akaz rispose, «Non chiederò nulla, non tenterò il Signore». Isaia disse, «Ora ascoltate allora, casa di Davide, è forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, che lo chiamerai Emanuele». Correlle e fratelli, questo dialogo tra Akaz e Isaia con Dio sullo sfondo ha per noi molti misteri. La Chiesa del primo secolo ha pensato di vedere in questa parola marginale, in questo dialogo, la giovane concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele come una profezia. Emanuele è sottolineato dal Vangelo di Matteo, significa Dio con noi, Emanuele, con noi Dio. Se Dio non è con noi, non è il vero Dio. Se non è con noi, forse nemmeno noi siamo veramente noi stessi. È il fatto che Dio sia con noi, che dà a noi la nostra identità più autentica. E questa riflessione ci aiuta a capire che innanzitutto Dio distrugge la cultura assai diffusa, sia a livello interpersonale, sia forse anche di più a livello politico, questa cultura del contro, della contrapposizione. Abbiamo avuto delle grosse manifestazioni in queste ultime settimane contro certi provvedimenti di natura sanitaria e allora questo essere contro ha qualificato le persone che partecipavano a questo movimento molto più della loro identità che dovrebbe essere quella più profonda, cioè quella delle loro scelte morali, quella delle loro scelte politiche, sociali, forse anche contro. Quando si è contro qualcosa o contro qualcuno lo si urla in modo più forte, a cominciare anche per esempio dalle manifestazioni sportive. Il tifo dello sport si qualifica molto più per gli urli contro una squadra avversaria che appunto per le scelte morali, sociali, politiche di quelli che urlano Dio con noi, Dio supera la cultura della contrapposizione. L'Apostolo Paolo preciserà anche meglio questo pensiero quando dirà se Dio è per noi chi sarà contro di noi, colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse tutte le cose con lui. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né il presente né il futuro, né nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Dio con noi, in Gesù Cristo. Emanuele, Dio per noi, sempre in Gesù Cristo. Tutto bello, dunque? Tutto va bene? Dio è sempre con noi? Pensiamo alla bestemmia con cui è stata usata questa espressione dalle armate naziste, Gott mit uns. Dio è con noi. Noi possiamo annientare, a cominciare dal popolo di Israele, a seguire con tutte le persone fragili, handicappati, omosessuali, zingari. Dio è con noi. Possiamo annientare tutte queste persone. Dio non è contro di noi, quindi possiamo fare quello che ci pare. E no. La scrittura ci mette in guardia contro questo tipo di ascolto del messaggio Emanuele, del messaggio Dio con noi. Cioè nelle scritture di Israele, il libro del Levitico dice da parte di Dio, «Se non mi date ascolto e non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzerete le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandamenti e così rompete il mio patto, ecco quel che vi farò a mia volta. manderò contro di voi il terrore, la consumazione e la febbre. Queste cose annebbieranno i vostri occhi, consumeranno la vostra vita e seminerete in vano la vostra semenza, la mangeranno i vostri nemici. Dio con noi, certo, ma contro le distorsioni di questo messaggio». Dice ancora il libro del Levitico, «Manderò contro di voi anche le bestie feroci che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero e le vostre strade diventeranno deserte». C'è un'insistenza su questo Dio con noi che si trasforma in un Dio contro, contro in sostanza chi calpesta la sua legge, chi bestemmia il suo nome. E questo pensiero ritorna anche nelle lettere riportate dal libro dell'Apocalisse, lettere di grazia alle sette chiese dell'Asia, ma a un certo punto l'Apocalisse dice anche «All'angelo della chiesa di Efeso scrivi «O questo contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore, ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto». «Se non ti ravvedi» «Per noi valdesi il candelabro rimosso ha sapore di tragedia». «E anche a un'altra chiesa, alla chiesa di Pergamo, ho qualcosa contro di te, che alcuni professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificate agli idoli e a commettere adulterio». «L'idolatria fa sì che il Dio con noi diventa Dio contro di noi». «E ancora a un'altra chiesa, all'angelo della chiesa di Sardi, scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti, cioè lo Spirito Santo e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto». «E ecco, anche qui, una vita apparente nella fede è in fondo una morte sostanziale». Infine, per continuare questa serie di citazioni, all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principe della creazione di Dio. «Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, fossi pure tu freddo o fervente, ma così, visto che sei tiepido, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici «sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente» e non sai invece che sei infelice fra tutti, «miserabile, povero, cieco e nudo». «Io con noi, con noi con la sua grazia, con noi anche col suo giudizio, non con noi pur che sia, ma con noi come colui che ci scuote dal nostro torpore, dalla nostra tiepidezza, dalla nostra presunzione di ricchezza. Quando dici «sono ricco», perché credi, per esempio, di essere ricco di soldi, forse non capita a molti di voi che siete in ascolto quest'oggi, ma, insomma, se chiunque di noi pensa che una ricchezza di qualsiasi tipo, anche una ricchezza culturale, una ricchezza spirituale, in fondo, diventata non più un servizio, ma un possesso, ecco, di fronte a tutto questo il Dio con noi ci scuote e ci chiama a correggerci. Quando Dio rimprovera, tuttavia, lo fa per un motivo preciso e in vista di una correzione costruttiva nell'ambito di una comunione non interrotta. Questo ci sia dato in quest'ultima settimana dell'anno e in modo sempre più profondo nell'anno che viene nella nostra vita di fede e nella nostra vita di Chiesa. Amen. Amén. Amén. Grazie a tutti. 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 Tu hai fatto risuonare l'annuncio di una grandissima gioia. Grazie a tutti. Tu sei contro i nostri errori, tu sei contro le nostre infedeltà, tu sei contro la nostra tiepidezza, tu sei contro la nostra mancanza di amore, tu sei contro la nostra mancanza di sensibilità nei confronti di coloro che soffrono, tu sei contro di noi quando è necessario come un padre che ama i suoi figli e le sue figlie ma corregge i loro errori e li mette sulla retta via. Nel nome di Gesù, il Signore che ci ha insegnato a dirti, Padre nostro che sei nei cieli, si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. la tua volontà sia fatto la tua volontà sia tu, la tua volontà sia la tua volontà sia la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano Rimettici i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori Non lasciarci cadere nella tentazione Ma liberaci dal male Tuo è il regno Tuo è la potenza Tuo è la gloria Per tutti i secoli dei secoli Amen Receviamo la benedizione del Signore Ripeto come domenica scorsa Ce la scambiamo tra di noi In spirito io pronuncio le parole Ma il senso è quello che Ognuno e ognuna di noi sente nel proprio cuore La pace di Dio Che supera ogni intelligenza Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri In Cristo Gesù Andiamo in pace Ricordiamoci delle sorelle e dei fratelli Che sono nel bisogno e nella sofferenza Che il Dio della pace Sia con tutti noi Per tutti e tutte noi E quando è necessario Contro i nostri errori Voi da è sempre Amen Alla prossima 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 Alla prossima